www.feyyaz.tv Buongiorno, abbiamo scelto di aprire con queste immagini che sono molto significative secondo noi, gli operai di Arcelor che ieri manifestavano per la loro situazione e avete visto a un certo punto chiedono alle forze dell'ordine siate solidali con noi, levatevi i caschi e la polizia lo fa, fa quel gesto di togliere il casco e mostrare appunto una solidarietà in un momento difficile, in un momento aspro ed è secondo noi l'immagine che unisce meglio in questi giorni quello che sta accadendo nel nostro tempo ovvero una crisi sanitaria che mette a durissima prova non soltanto il nostro paese naturalmente ma noi parliamo del nostro paese con delle ripercussioni economiche e queste due cose purtroppo si tengono insieme e insomma la solidarietà in questo caso è importante per farci sentire tutti insieme in un momento difficile quindi nella loro ruvidità, nella loro durezza sono immagini molto belle naturalmente partiamo da qui, parleremo del virus, della situazione del nostro paese di che cosa accadrà nei prossimi giorni, di alcune regioni più provate di altre anche naturalmente dei riflessi sull'economia saluto intanto gli ospiti che sono già in collegamento con noi do il buongiorno al sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, esponente della Lega buongiorno buongiorno a voi buongiorno a Massimo De Manzoni, collega della Verità buongiorno e in studio con me e Luciano Capone, collega del Foglio buongiorno Luciano partiamo da questa immagine, insomma non sempre vediamo dei poliziotti togliersi il casco in gesto di solidarietà è accaduto forse un altro raramente però ieri quelle immagini erano significative in genere cose del genere accadono quando ci sono cortei di lavoratori in difficoltà dove ci sono pochi scontri violenti generalmente quando sono manifestazioni organizzate dai lavoratori e insomma anche i poliziotti che sono dei lavoratori si immedesimano nelle esigenze di queste persone di lavoro quindi scatta diciamo una solidarietà umana e anche perché generalmente appunto sono manifestazioni non violente pacifiche però la storia di Arcelor Mittal e dell'ILVA ci ricorda molto tanti l'hanno paragonata alla metafora della situazione italiana di questo scambio trade off tra salute e lavoro quella difficoltà di far conciliare le cose ma riguarda anche un problema italiano di come affrontare problemi dell'incapacità di risolvere problemi strutturali perché il problema dell'ILVA ormai mi pare che l'inchiesta ambiente svenduto sia del 2012 sono passati quasi otto anni di commissariamenti inchieste penali che non arrivano a diciamo a conclusione dopo tutto questo tempo è una soluzione industriale dell'ILVA che non si risolve inchieste che aumentano anziché diminuire perché si aggiungono inchieste su inchieste non c'è una soluzione e il modo per risolverlo come nell'epidemia da parte del governo è demandare a Domenico Arcuri la soluzione di tutto perché anche nell'ILVA dovrà essere in vitalia che l'agenzia capeggiata da Arcuri a entrare diciamo nazionalizzare entrare con una quota insieme a Mittal per risolvere con un nuovo piano industriale che ancora non si sa quale sia e a fine mese Mittal potrebbe andarsene pagando 500 milioni e tornandosene in Inghilterra e in India dove sono i suoi affari principali quindi siamo ancora qui con l'acqua alla gola si arriva a poco tempo e tutto è affidato ad Arcuri e a soluzioni che ancora non si conoscono e in questo è molto simile a quello che accade per la pandemia De Manzoni è l'Italia dei commissari in questo momento abbiamo visto anche quello che è accaduto in Calabria sappiamo bene la questione uno sostituito perché non aveva presentato il piano sulla pandemia ma insomma anche con altri risvolti sostituito però da una persona che poi con alcune esternazioni fatte a maggio tra l'altro probabilmente anzi senza probabilmente forse non è la persona più adatta adesso si parla di un affiancamento con Gino Strada e Arcuri al quale viene affidato tutto anche la partita del vaccino adesso? Quello è incredibile perché cioè a centrare tutto su un uomo solo che tra l'altro non è che in questi ultimi tempi da quando è stato incaricato abbia dato prove sfolgoranti di efficienza e di rapidità siamo ancora qua che parliamo dei banchi a rotelle che in parte devono ancora arrivare che arrivano quando ormai le scuole sono chiuse e ahimè stiamo parlando delle terapie intensive in cui i bandi sono stati tratti con almeno due mesi di ritardo e attenevano ad Arcuri stiamo parlando dei materiali sanitario che doveva arrivare negli ospedali e cui il 2 novembre gli ospedali dopo una lunga trafila Arcuri sono stati autorizzati da Arcuri a cominciare a espletare le pratiche per gli acquisti cioè stiamo parlando di una persona che è già in ritardo su tutto e che adesso si vede obberato anche della delicatissima missione di distribuire il vaccino che sappiamo non sarà per niente facile sia per la mole dell'impresa sia per il fatto che il vaccino perlomeno quello di cui si sta parlando di più in questo momento per varie ragioni quello della Pfizer richiede una conservazione a meno 80 gradi di temperatura quindi non è proprio una cosa che te lo metti in tasca o lo metti in un furgoncino e lo porti ovunque e nel frattempo Arcuri deve anche occuparsi della sorte di almeno 5.000 persone che da un momento all'altro rischiano di ritrovarsi senza un posto di lavoro a me sembra tutto questo incredibile non si capisce perché ci sia una sola persona in tutta Italia che possa occuparsi di queste cose non si capisce perché debba essere proprio questa persona che ripeto fino adesso non ha dato grandissime prove di sé e non si capisce perché appunto con tutto questo apparato che ha messo in piedi il governo poi alla fine si finisca sempre in un imbuto che è un imbuto pericoloso ripeto perché alla fine ha delle ripercussioni immediate sul sistema sanitario che è il nostro grandissimo problema in questo momento nell'affrontare il Covid perché parliamoci chiaro questo è il problema le terapie intensive che si riempiono gli ospedali che si riempiono e quindi non riusciamo a far fronte e da lì arrivano tutte le altre provvedimenti di lockdown più o meno esteso più o meno forte più o meno generalizzato che hanno un impatto sull'economia devastante allora sicuramente è così diciamo il problema principale in questo momento è il nostro sistema sanitario gli ospedali sotto pressione e anche alcune regioni dicevamo della campagna dove dovrebbe almeno così abbiamo appreso arrivare l'esercito nelle prossime ore ma vedremo se ci saranno anche altre come dire altre iniziative prese la campagna sapete che è ancora in zona gialla da giorni si parla di un suo passaggio in zona arancione o rossa insomma anche questo cambiamento di colori abbastanza frequente lascia un po' perplessi tra l'altro è sempre in base ai dati ma anche sui dati c'è grande polemica perché alcuni sostengono che questi dati non sono completi e quindi si fa un ragionamento in base a dei dati che non sono esattamente veritieri anche il Lazio non è messo benissimo oggi l'assessore alla sanità D'Amato dice attenzione ai prossimi 15 giorni perché noi rischiamo seriamente di passare in zona rossa tra l'altro il Lazio anche in zona gialla quindi si farebbe direttamente un salto in zona rossa la situazione non va bene non va bene negli ospedali sindaco vengo da lei il nord regione più colpita durante il primo lockdown la prima fase ma anche adesso il nord è la parte del nostro paese che soffre di più soprattutto la Lombardia sì c'è sofferenza sofferenza perché il numero dei contagiati di questa seconda ondata è molto superiore addirittura alla prima lo vedo io nel mio comune dati che sono quattro volte superiori a marzo con però una virulenza completamente diversa a marzo avevamo nella mia cittadina che ha 13 mila abitanti 40 persone colpite da virus tutte ospedalizzate a ieri ne avevamo 160 ma quelle ospedalizzate erano meno di 10 sicuramente però c'è un problema di diffusione del virus che non viene contenuto è saltato totalmente il tracciamento e noi sindaci ci siamo messi a disposizione delle aziende sanitarie locali per sopperire a questa cosa vede nei primi di PCM c'è stata tolta già dal mese di marzo l'autorità sanitaria locale un po' lo comprendo se no ogni sindaco avrebbe intrapreso azioni personali quindi andava data uniformità però oggi noi sindaci potevamo essere una risorsa una risorsa perché sul tracciamento sugli isolamenti potevamo dare delle risposte non sempre i tamponi sono le risposte al tracciamento il fatto di andare a isolare subito i conviventi dei primi contagiati per esempio erano misure di buon senso che potevano portare a fermare l'epidemia non è stato così io ho visto tantissimi casi surreali di anziani che avevano il proprio coniuge contagiato che non potevano uscire di casa che uscivano ma in buona fede senza saperlo perché non gli era neanche arrivato il provvedimento dell'azienda sanitaria locale credo che questo non sia un problema di una singola regione ma andava attuato un protocollo nazionale univoco così non è stato soprattutto per quello che riguarda il tracciamento l'app immuni è un fallimento totale lo dicono i numeri lo dicono i risultati e quindi ci aspettavamo di meglio da un commissario Alcuri che sicuramente su tanti tavoli ma altrettanto sicuramente non ha fatto bene allora l'app immuni quindi lei non l'ha scaricata io non l'ho scaricata anche perché vedendo le prime incongruenze i primi dati di chi l'aveva scaricata la ritengo totalmente inutile una dipendente del nostro comune ha ricevuto dopo oltre 15 giorni quindi già da fuori quarantena di essere stata a contatto con un positivo ripeto quello che serviva di più era operare un tracciamento serio e corretto il fatto che non si siano isolati almeno i soggetti conviventi dei contagiati tempestivamente è veramente una debacle del sistema sanitario ma non dei medici degli infermieri degli operatori socio-sereditari che sono in corsia ma di tutte le persone che a livello amministrativo non avendo un protocollo si trovavano in emergenza le faccio un esempio che non riguarda il tracciamento specifico però anche sulla gestione dei tamponi si è detto di tutto di più i protocolli sono cambiati tante volte in Piemonte ad esempio inizialmente non si volevano fare i tamponi ai bambini asintomatici perché comunque i tamponi rapidi sono molto invasivi anche io li ho fatti e devo dire che effettivamente è così successivamente hanno deciso di tamponare tutti quei bambini entrati in contatto con un proprio compagno di classe oggi si accorgono che forse anche questa soluzione non va bene e si ritorna alla prima ipotesi io chiedo da sindaco lo chiedo anche da padre di famiglia lo chiedo da cittadino italiano di prendere delle decisioni univoche e che siano quelle anche tutti il susseguirsi dei dpcm fa sì che gli effetti non si possono vedere cioè se i dpcm si aggiornano ogni 4 o 5 giorni e l'incubazione del contagio è di 10 capite che i risultati non sono tangibili sentami scusi un'ultima cosa poi andiamo da Raffaella Di Rosa però diciamo tutto questo è imputabile solamente al governo oppure oggettivamente abbiamo visto un rimpallo continuo tra governo e regioni e forse anche le regioni dovevano attuare dei piani o predisporre dei piani c'è l'autonomia in questo settore c'è l'autonomia ma le ricordo che per quanto riguarda il coronavirus soprattutto gli enti locali sono stati commissariati dal governo per esempio io come sindaco non posso attuare alcune azioni restrittive non posso fare determinate cose non posso fare io gli isolamenti fiduciari di sicuro il tavolo stato-regioni in questi mesi poteva produrre delle iniziative migliori il giornalista prima della verità ha detto di tutto quello che non è stato fatto in questi mesi per la scuola ad esempio le uniche soluzioni sono state quelle di acquistare questi banchi a rotelle che francamente io sul mio territorio non ho visto sul trasporto locale solo oggi si è pensato solo in questi giorni di attuare un piano emergenziale sul mondo della scuola c'è tanto caos io credo che si poteva fare meglio lo si poteva fare insieme quindi credo che il governo abbia una grossa responsabilità una domanda perché nei dpcm c'è scritto che le regioni non possono come dire ammorbidire ecco le linee che vengono date ma le possono però inasprire quindi questo è un margine che viene lasciato no? Sì un margine però in un caos normativo pensi all'ultimo dpcm noi siamo zona rossa in questa zona rossa per chi non frequenta Piemonte Lombardia e Calabria pensa che le città siano totalmente vuote tutti i negozi con le proprie serrande abbassate non è così perché poi nell'allegato 23 praticamente il 70% dei negozi possono rimanere aperti allora io mi chiedo anche coloro i quali stendono queste norme che poi restrittive non sono che cosa abbiano pensato nell'allegato 23 si permette nelle zone rosse di tenere aperte delle attività che francamente non se ne vede l'utilità penso i concessionari d'auto però voi potete intervenire in asprendo quell'aspetto però poi magari i commercianti se la prendono con voi l'impressione anche che appunto in un sottile gioco del cerino tutti cerchino di rimanere in piedi per non avere troppe proteste ma guardi chiaramente i commercianti hanno delle difficoltà anche perché non vedono azioni concrete da parte del governo quello che però io imputo lei dice le regioni possono restringere si aprirebbe un gioco delle parti con delle comparazioni con le associazioni di categoria che inizierebbero a dire perché in regione Piemonte restringete alcune attività in Lombardia no questo il governo doveva fare non scaricare la palla alle regioni che poi di fatto si trovano a fare una guerra tra di loro questo è un problema impattante dal mio punto di vista noi chiediamo una direzione univoca poi anche su queste zone gialle arancione rosse mi dica lei come fa la campagna con i numeri che ha essere zona gialla ma lo dico a tutela di quei cittadini perché va bene che possono avere meno restrizioni anche alla campagna volevo andare da Raffaella di Rosa che ci parla con chi davvero è al fronte Raffaella buongiorno dici dove sei buongiorno Gaia io sono davanti al covid hospital 19 una struttura modulare noi siamo davanti al pronto soccorso adiacente all'umanitas all'ospedale humanitas di Milano una delle linee del fronte di questa lunghissima emergenza questa struttura è stata costruita velocemente in 11 settimane durante la prima ondata è stata aperta ai pazienti a settembre l'ospedale l'ospedale humanitas di Milano ospita 559 pazienti di cui 254 sono pazienti covid 20 le terapie intensive occupate il responsabile del pronto soccorso che poi tra poco verrà qui con noi e ci racconterà un po' com'è anche la saturazione dell'ospedale la situazione di questi ospedali che stiamo raccontando in questi giorni che in questa regione e non solo in questa regione stanno soffrendo però adesso io sono molto contenta di avere qui con me un'altra delle anime degli ospedali una delle figure più importanti che sono gli infermieri c'è con me Alda Murtas a cui do il buongiorno e il benvenuto e la signora Murtas era qui quando il primo paziente diagnosticato covid l'esito del primo tampone covid qui all'Humanitas è stato comunicato e c'era lei vero? buongiorno sì come non ricordarlo sono delle immagini indelebili eravamo a fine febbraio si sentiva già parlare di covid in tv si parlava di covid ma in realtà non si capiva di che cosa si stava parlando e quindi questo scatenava in noi un po' di ansia e preoccupazione e allora ti sembrava che ogni paziente potesse essere un paziente covid positivo e allora si creava un po' di allarmismo e quello che noi cercavamo era quello di sostenerci gli uni con gli altri infermieri medici con gli sguardi avevamo paura ma uno non voleva dimostrarlo all'altro e poi c'è stato veramente il primo caso e allora l'ospedale iniziava già ad organizzarsi io mi ricordo l'immagine di quel giorno dove l'obiettivo era quello di mettere in sicurezza tutti gli altri pazienti e allora tutte le persone hanno preso i pazienti con i letti li hanno trasferiti in un'altra degenza considerata allora pulita lasciando lì dietro quella porta quelle persone che quella persona allora era una che era stata considerata positiva e guardavamo lì dentro e dicevamo cosa succederà non sapevamo quale sarebbe stata l'evoluzione queste sono immagini che ovviamente io ricordo ricordo anche con un po' di dispiacere con un po' di dolore e sono immagini che però ci hanno unito e ci hanno fortificato ora quella persona sono diventate tante persone i vostri ospedali sono pieni siamo già alla seconda ondata quali sono le differenze che vedete sia nei pazienti che ricoverate sia per voi per voi che lavorate soprattutto gli infermieri a strettissimo contatto quotidiano con questi malari le differenze ci sono ci sono perché nella prima ondata come ho detto prima non sapevamo dove si stava andando non sapevamo contro chi dovevamo combattere quello che era dalla nostra parte era sicuramente una competenza tecnica per cui l'ospedale ha convertito subito i reparti schierando sul campo le persone più preparate gli infermieri delle medicine gli internisti i medici di pronto soccorso anestesisti e però si andava avanti si andava avanti con l'adrenalina si cercava di stare vicino alle persone inventarsi ogni giorno un modo per avvicinarli alle famiglie seconda ondata la seconda ondata ovviamente ci ha trovato un po' più stanchi ma anche un po' più consapevoli e però la difficoltà maggiore noi ce l'abbiamo non sull'assistenza diretta del paziente perché nel frattempo noi ci siamo anche perfezionati abbiamo capito contro chi dovevamo combattere ma adesso abbiamo i pazienti che sono consapevoli hanno vissuto il dolore dei mesi passati magari hanno perso dei cari è una cosa che ci ha toccato e oggi dover sostenere queste persone come dicevo prima spaventate e anche noi siamo spaventati diventa sempre più difficile e allora per questo secondo me abbiamo bisogno di aiuto aiuto vuol dire siamo tutti consapevoli di quello che sta accadendo comportiamoci bene fuori noi siamo non solo infermieri medici noi siamo madri di famiglia siamo figli e mogli abbiamo bisogno di solidarietà la solidarietà di cui si parlava all'inizio quella del poliziotto che ha tolto il casco per dimostrare solidarietà fatelo anche con noi noi non possiamo togliere i nostri caschi e le nostre mascherine ne abbiamo bisogno per difenderci difendere le famiglie proteggere i pazienti però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini perché anche noi siamo cittadini prima mi parlava della percezione infatti sì Gaia no volevo solo dire una cosa quello naturalmente è un covid hospital però non dobbiamo mai dimenticare che ci sono tanti altri pazienti con altre patologie che hanno bisogno urgenza di non rimandare l'intervento sulla loro condizione io ho visto ospedali a Roma dove alcuni interi reparti per esempio di oncologia sono stati svuotati cioè hanno dovuto rimandare le persone a casa e ho visto infermieri e responsabili con le lacrime agli occhi proprio perché dovevano rimandare a casa questi pazienti magari sanificare il reparto e vi assicuro che nel momento in cui hanno potuto richiamare i pazienti il reparto ho visto così come ho visto le lacrime sui loro occhi ho visto anche un gran sollievo questo credo non dobbiamo mai dimenticarlo proprio per quella forma di rispetto che diceva l'infermiera anche se noi pensiamo che non ci crediamo fino in fondo sull'utilizzo di questa mascherina la portiamo un po' così un po' sotto il naso sul mento eccolo facciamolo almeno per rispetto verso il prossimo prego Raffaella no assolutamente peraltro raccontando spesso gli ospedali ci viene raccontata un po' la differenza tra la prima e la seconda ondata e si dice cioè molti ci dicono che nella prima ondata gli altri pazienti non venivano negli ospedali perché avevano paura perché e quindi abbiamo raccontato di tanta gente che non ce l'ha fatta ed è morta in casa magari di infarto eccetera adesso molti ci stanno dicendo che vengono c'è una differenza con questa prima ondata e qui in questo ospedale per esempio tutte le cure oncologiche tutte appunto altri tipi di traumi eccetera li avete questi pazienti ancora? Sì corretto Raffaella allora diciamo che l'umanità si ha creato dei percorsi proprio per differenziare i pazienti chiamiamoli positivi anche se il termine non è giusto ammalati anche di covid da pazienti che invece entrano per altri motivi ricordiamo anche che l'umanità è un hub stroke è un hub del politrauma per cui arrivano anche in pronto soccorso altri pazienti esatto l'obiettivo è proprio quello di differenziare i percorsi e di mettere in sicurezza tutti prima dicevo sono ammalati anche di covid è proprio questo l'immagine che non dobbiamo dimenticare è che noi abbiamo ammalati ammalati vuol dire che sono anche ammalati di covid ma noi curiamo e assistiamo pazienti che si ammalano anche di cardiopatie che si ammalano di tumori quindi è un di cui è importantissimo hanno anche dei problemi respiratori quando abbiamo la positività al covid ma noi abbiamo ammalati e la cura ovviamente non si rifiuta a nessuno i pazienti per fortuna rispetto alla prima ondata sembrano essere più rassicurati per cui arrivano e infatti anche i pazienti ammalati di covid diciamo che hanno un decorso salvo alcuni dove c'è un'imprevedibilità hanno un decorso migliore perché probabilmente arrivano prima in ospedale per cui diventa probabilmente più facile erogare la cura adeguata mi fa arrabbiare la fa arrabbiare sentire fuori spesso persone che dicono ma non è vero che gli ospedali sono pieni video che girano in rete prima mi diceva di sì certo mi fa arrabbiare tantissimo e mi fa arrabbiare prima come dicevo prima come cittadina ma mi fa arrabbiare come operatore sanitario nel senso che noi siamo qua è vero facciamo il nostro dovere qualcuno ci dice lo fate e siete pagati per questo non lo facciamo per un mero aspetto economico lo facciamo perché lo sentiamo questo è un valore e allora vorremmo trasmettere questi valori alla cittadinanza ci fa rabbia certo sapere che fuori si circola senza la mascherina o i cosiddetti negazionisti e dicono il covid non esiste certo non possiamo augurare di fare un giro qua in ospedale e vedere in che situazione ci troviamo vi assicuro che la pressione è tanta la paura è tanta e noi ce la mettiamo tutta per quello che possiamo ma da soli non possiamo farcela comunque non gli farebbe male guardi perché io sono arrivata a questa conclusione negli ospedali però non si entra quindi ricordiamo anche che ci sono tanti familiari che non possono di fatto andare a visitare queste persone ma neanche le persone che hanno altre patologie quindi in più ci mettiamo la solitudine di chi soffre in questo momento che come contatto e come consolazione ha solamente gli infermieri e i medici che appunto non stanno facendo assolutamente poco allora io adesso devo andare in pubblicità vedo già collegato il vice ministro Sileri con il quale tra poco parleremo ricordo subito che il vice ministro ha scritto un libro covid segreto tutto quello che non sapete sulla pandemia è importante perché proprio i proventi di questo libro andranno a favore dei familiari di coloro che hanno perso un punto un congiunto che magari faceva il medico o l'infermiere o comunque un operatore sanitario tra poco dopo la pubblicità Allora buongiorno al vice ministro Pierpaolo Sileri intanto ho detto bene sui proventi del libro scritto con Alessandro Cecchi Paone Sì diciamo più che un libro scritto è una raccolta di domande risposte quindi è una intervista che praticamente è stata condotta in queste settimane in questi mesi da Cecchi Paoni al sottoscritto e quindi è stato poi messo giù quelli che erano le riflessioni insomma è un libro intervista fondamentale e anche le domande e anche le domande immagino tutto quello che non sapete sulla pandemia beh sì esattamente cioè si tratta di io e Alessandro ci siamo conosciuti alcuni mesi fa quindi ci siamo poi incontrati diverse volte per parlare di ciò che accadeva quindi diciamo è una raccolta di pensieri domande pensieri riflessioni degli ultimi mesi senta viceministro allora oggi i giornali ci parlano di un record di ricoveri ma di un virus della curva esponenziale che sta frenando almeno questo è diciamo il titolo di molti giornali superato il milione di casi contagi in aumento ma la curva non è più esponenziale a fronte di questo però sappiamo che nelle prossime ore potrebbe esserci una stretta ulteriore ci dice qual è la situazione? Allora innanzitutto è evidente che un calo dei contagi è sempre un segnale di ottimismo ma non è il calo dei contagi di un singolo giorno che deve dirci se le cose andranno bene o no nel senso che è ipotizzabile che vi sia un rallentamento del numero dei contagi ma aspetterei magari altri due o tre giorni quattro giorni per confermare questo dato è chiaramente ipotizzabile auspicabile ipotizzabile perché le misure prese già alcune settimane fa è chiaro che aspetti due settimane per vederne l'esito ed è evidente che anche con l'ultimo di PCM che ha un impianto nazionale per quanto riguarda moltissime misure quindi una rigidità delle restrizioni che riducono l'esposizione a livello nazionale e poi come sappiamo la divisione delle regioni a secondo del colore quindi lockdown mirati chirurgici circoscritti alle regioni altre regioni potrebbero ovviamente cambiare in colore io ipotizzo di sì è chiaro che andranno analizzati i dati come ben sapete ciò avviene proprio in queste ore quindi fra oggi e domani vedremo i dati che provengono dalle altre regioni e quindi è ipotizzabile è possibile che altre regioni come è accaduto già ieri in cui alcune sono diventate arancioni altre possano ovviamente cambiare colore io dico sempre che però è vero anche il contrario nel senso che attesi diciamo le due settimane dal cambiamento di colore quindi quelle di ieri dovranno aspettare due settimane quelle della settimana mancano ancora dieci giorni è ipotizzabile e secondo me è verosimile che il miglioramento diciamo dei dati e quindi la minore circolazione del virus possa alleggerire quei sistemi in queste regioni queste possano retrocedere in senso positivo e quindi prendere un colore più leggero se non fatto l'esempio della Lombardia del Piemonte il mio augurio è che tra qualche giorno i nuovi dati quindi la nuova analisi al compimento dei 14 giorni consentirà al Piemonte alla Lombardia di tornare arancioni se non addirittura giallo però è chiaro che dobbiamo aspettare questi giorni per esaminare i nuovi dati e capire se ciò che è stato fatto a livello generale e a livello locale determina un rallentamento di contagio io penso proprio di sì perché se limiti l'esposizione è chiaro il virus circola meno ecco lei ci ha spiegato la filiera aspettate i dati arrivano i dati in base ai dati si decide appunto se quella regione passa di colore però sui dati c'è una grande questione perché si dice che di alcune regioni questi dati arrivano o incompleti oppure sono dati vecchi o in ritardo e quindi la valutazione gioco forza è falsata le chiedo vale per la campagna e perché la campagna non cambia colore però arriva direttamente l'esercito allora guardi la campagna è chiaramente vi è la valutazione di dati che provengono dalla campagna facciamo un attimo chiarezza sui dati che poi si è detto che i dati non sono fedeli che vi è dolo allora chiariamo ogni diciamo ogni cosa io non credo assolutamente che vi sia dolo nel prendere i dati e nel trasmetterli voglio sperare almeno che non sia così ma francamente ne dubito in una situazione come questa credo invece che vi sia magari una minore accuratezza nella raccolta dei dati non per dolo ma per pressione dei servizi lei immagini che se in una regione non faccio l'esempio della campagna parlo di qualunque regione tu ti trovi 5.000 contagi in un giorno e di questi 5.000 contagi devi andare a cercare anche tutti i contatti stretti devi fare i tamponi devi aspettare l'esito dei tamponi e quant'altro capisce che la raccolta di quei dati purtroppo per numerosità del campione diventa meno accurata così come diventa praticamente non accurata se tu hai i sintomi la immagini il dottor Sileri ha i sintomi deve chiamare per fare un tampone il tampone glielo fanno fra 5 giorni poi dopo altri 5 giorni arriva la risposta nel mentre tutti i contatti stretti del dottore Sileri poi vengono rintracciati è positivo non è positivo poi magari rintracci una settimana dopo ma una settimana dopo è già troppo tardi allora capisce che quel sistema di positivo contatti stretti eventuali altri positivi salta completamente ed infatti in alcune regioni in alcune aree si è visto un aumento del numero dei contagi non legati ad altri focolai cioè quei contagi di quali non riesci a capire come è stato il meccanismo di trasmissione capisce che questo diventa un rischio ecco perché regioni dove questa accuratezza legata anche all'andamento importante del virus alle carenze strutturali del territorio è tutto un insieme di fattori è chiaro che sono regioni che vanno attenzionate se i dati improvvisamente non dovessero essere così accurati ripeto non per dolo ma per diciamo impossibilità o incapacità o del sistema o impossibilità perché i numeri sono davvero alti è chiaro che lì salta un campanello d'allarme si accende un campanello d'allarme per il quale forse è meglio un passo indietro e magari un lockdown circoscritto o delle misure più restrittive è chiaro che da dove poi vi è una sofferenza precedente vi sono delle regioni che erano in piano di rientro che sono in piano di rientro delle regioni in cui l'Italia sono stati più duri perché hanno dovuto recuperare strada e molto hanno dovuto recuperare proprio nel periodo Covid è chiaro che può essere necessario un supporto e per i controlli e lei ha fatto l'esempio dei militari ovviamente anche per la parte sanitaria cioè supportare quelle regioni che in questo momento hanno più bisogno De Manzone sì prego vedo che voleva fare una domanda sì vorrei approfittare della presenza del Vice Ministro che è anche medico questo è sempre bene ricordarlo perché è una cosa importante secondo me c'è un problema negli ospedali che continuano a dire quelli che ci lavorano dentro almeno un terzo delle persone che ricoveriamo che arrivano qui non dovrebbero essere qui dovrebbero essere curati a casa oggi noi riportiamo sulla verità il durissimo atto d'accusa del presidente degli anestesisti rianimatori italiani che dice la medicina di base è assente dopo nove mesi ancora devono decidere che parte recitare in questa tragedia del virus abbiamo sentito ovviamente anche i rappresentanti dei medici di base che scaricano molto sul governo dicono nel governo non ci sono arrivati i materiali di protezione non ci sono linee guida adeguate non abbiamo insomma non siamo stati coinvolti in modo efficace io so che un primo accordo è stato firmato non moltissimo tempo fa e a me è perso con molto ritardo devo essere sincero visto che la pandemia ce l'abbiamo in casa da marzo ma può chiarire che cosa può succedere con i medici di base non c'è un modo di coinvolgere liberamente in modo più efficace visto che come ci stiamo dicendo tutti da sempre il vero problema è la tenuta del nostro sistema ospedaliero perché tutto il resto è gestibile oggettivamente allora dottore De Manzoni ha pienamente ragione laddove fallisce il sistema territoriale o laddove il territorio è meno pronto è chiaro che poi si riversano in ospedale diciamo persone che hanno bisogno di cure e ha pienamente ragione quando dice che una parte di questi cittadini che vanno in ospedale poi non hanno bisogno di cure ospedaliere ma potrebbero essere gestite a casa anche se questo è parzialmente vero perché vede in Italia non tutti vivono in 100-150 metri quadrati di casa anzi la maggioranza di casi vivono in 4 in 5 in 60 70 80 metri quadrati e quando hai un positivo dentro casa capite che quel positivo è meglio esattamente è meglio che vada in ospedale quindi l'azione sul territorio deve essere innanzitutto aiutare i medici e medici in generale guardi io qualche giorno fa ho detto che se io ho avuto più o meno in una settimana 30 o 40 persone che mi hanno chiamato per impostare le loro terapie capisce che se chiamano il vice ministro della salute come medico vuol dire che qualcosa è saltato c'è un problema e le garantisco che è quotidiano anche stamattina io stavo dando la terapia a un paziente che non riesce a trovare una risposta sul territorio ora dobbiamo innanzitutto non colpabilizzare nessuno quindi io vorrei che i medici di medicina generale non colpabilizzassero il governo e nemmeno la regione ricordiamo che c'era una società regionale allo stesso tempo nessuno deve colpabilizzare i medici di medicina generale cioè dobbiamo lavorare tutti insieme allora cosa serve i medici di medicina generale accanto a dei medici di medicina generale che riescono a compiere il loro lavoro con diciamo normalità anche perché immaginate gli studi ho sentito medici che hanno degli studi medici all'interno di condomini diciamo i condomini non vogliono che nessun paziente vada perché vi è rischio di infezione e quant'altro ecco aiutarli quindi territorialmente chi è responsabile di quella catena di medici di medicina generale capire quali sono le esigenze e on demand cioè a seconda dell'area aiutarli cioè stabilire ad esempio le zone dove possono fare i tamponi distribuire dispositivi di protezione individuale aiutarli con le attivazioni delle USCA perché a volte in alcune regioni il medico di medicina generale è impotente perché deve attivare un USCA attraverso un dipartimento di medicina preventiva e capite che diventa troppo indagina tutto questo e quindi queste diversità territoriali fanno sollevare i problemi che lei dottore De Manzoni mi ha appena sollevato linee guida vero linee guida potevano essere fatte potevano essere fatte prima io stesso le avevo già sollecitate settimane fa finalmente però diciamo vi sono però attenzione vi sono a livello nazionale attraverso Agenas che ha un comitato in questo momento nominato da Mantuan per creare queste linee guida che poi saranno di appropriatezza anche per quanto riguarda i ricoveri però molte regioni le linee guida le hanno già distribuite quindi attenzione le linee guida ci sono c'è il tipo di trattamento questo esiste è abbastanza standardizzato almeno per i pazienti a bassa comprensità e poi il mio invito a tutti gli amministratori locali e le regioni molte lo hanno fatto è di trovare questi cosiddetti covid hotel chiamiamoli come vogliamo dei quali mettere coloro che sono positivi senza sintomi e che quindi devono essere tirati fuori dall'ambito familiare per non contagiare i familiari stretti e poi per strutture magari private private convenzionate strutture non utilizzate per coloro che sono a bassa intensità di cura cioè è chiaro che dentro un hotel l'ossigeno non puoi farlo ma non puoi metterti a somministrare il cortisone diciamo endovena dentro un hotel però sicuramente in strutture private private convenzionate o diciamo cliniche in questo momento magari non vengono utilizzate le prendi metti questi pazienti e li togli dall'ospedale è chiaro che però è un processo che va organizzato a livello territoriale e ovviamente regionale pensare poi a una rivoluzione completa del nostro territorio del nostro vecchio di M70 per stabilire tutta quella che è la rete di ospedale e territorio capite che è impensabile farlo in epoca di guerra quando invece sei sul campo ma sicuramente è una rivoluzione finita ci vuole una programmazione no ci vorrà proprio una rivoluzione il nostro rivoluzione nazionale dovrà essere rivoluzionato però capisce bene che in questo momento puntare il dito è utile per migliorarsi e aggiustare quello che deve essere aggiustato però tutte queste critiche non costruttive spesso pregiudiziali in cui tutti sono contro tutti io parlo di politici parlo di associazioni parlo di tutte quelle persone che hanno senza capire mettiamole da parte e poi dopo ne discutiamo siamo in una situazione dura aspetti vice ministro che la porto dove c'è un suo collega che tra l'altro è al pronto soccorso e quindi credo che abbia poco tempo Raffaella sì Gaia è esattamente così il dottor Antonio Vozzo è responsabile del pronto soccorso e della medicina d'urgenza d'emergenza d'urgenza ci dedica ovviamente pochi minuti perché deve andare al lavoro gli stavo chiedendo prima quello che dicevate in studio cioè è vero che viene qui tanta gente che potrebbe essere curata a casa cosa poi parliamo dei pronto soccorsi ovviamente è corretto che rispetto alla prima ondata abbiamo dei pazienti che hanno una complessità sicuramente minore questo vuol dire che i pazienti arrivano prima ed è un dato di fatto c'è da dire che questi pazienti però abbiamo imparato stiamo imparando insieme a loro stessi la storia naturale della patologia nelle 48-72 ore successive possono avere un peggioramento repentino e hanno bisogno eventualmente anche di supporto ventilatorio quindi la gestione domiciliare di questi pazienti è molto borderline dottor Bozza qua siamo davanti alla camera calda dove arrivano le ambulanze per fortuna noi siamo qua da poco ne è arrivata una sola ma è anche un orario appunto non è l'orario del maggior afflusso negli ospedali a lei chiedo subito com'è la situazione del pronto soccorso qualche giorno fa aveva detto abbiamo una capacità di durata ancora molto breve quanto quanto reggete quanto si può reggere i flussi sono ancora alti in pronto soccorso la pressione è alta stiamo vedendo da qualche giorno un'iniziale deflessione della curva e questo è sicuramente importante la pandemia ci ha insegnato che l'andamento è molto fluido è molto dinamico quindi prima di dire che siamo in fase proprio di deflessione abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per avere questo tipo di conferma se così fosse nelle prossime due settimane sia il pronto soccorso sia l'ospedale dovrebbe cominciare ad avere un netto giovamento e una decompressione questa è la situazione attuale ovviamente perché avete visto un'impennata della curva invece nelle precedenti due settimane nelle precedenti tre settimane c'è stato un andamento sicuramente rapido repentino continuo costante dei flussi è da qualche giorno che cominciamo ad avere una sorta di plateau di accessi in pronto soccorso questo è un iniziale dato favorevole questa sì è una buona notizia lei da medico che vive e lavora qui dentro si sentono spesso gli appelli che arrivano dagli ospedali a chiudere maggiormente a dare una stretta e se ne parla in queste ore forse di una stretta maggiore lei che cosa dice ci vorrebbe ancora una chiusura maggiore per poter vedere i risultati qua dentro che poi mi ha detto l'ospedale è l'ultimo a vederli guardi è l'importanza che tutti quanti dovrebbero fare il loro lavoro noi facciamo il nostro lavoro se lo facciamo in collaborazione con i cittadini e i cittadini hanno un comportamento consapevole e socialmente responsabile tutti ne gioiamo questo è indubbio poi se saranno necessari ulteriori restrizioni sarà il governo a doverlo decidere non certo noi ma se c'è questa responsabilità sociale consapevole tutti quanti entraremo in giovamento in primis i prontosoccorsi e gli ospedali la vede questa responsabilità? sicuramente sta cominciando ad esserci una responsabilità maggiore e essendo la prima cartina di tornasole lo stiamo vedendo da qualche giorno a questa parte se i dati sono consolidati saremmo i primi ad esserne contenti grazie Raffaele riorganizzazione poi vi inventa sì no non so appunto volevo ringraziarti e magari dopo facciamo un altro collegamento e lasciare il dottore naturalmente al pronto soccorso che magari ha necessità anche della della sua opera anzi sicuramente quindi magari facciamo un altro collegamento più avanti Raffa va bene? va bene anche persone ritardissime con la pubblicità però Luciano Capone voleva fare una domanda al viceministro sì diciamo è in veste di ministro di medico come si diceva e anche di professore universitario vedevamo queste testimonianze da Milano che anche zona rossa zona critica c'è questa pressione diceva lei anche sui dati diciamo quando c'è stress i dati sono più sporchi come si può dire gli ospedali i pronti soccorsi sono sotto stress nei giorni scorsi c'è stata una polemica proprio su Milano sull'ospedale di Milano che è il San Raffaele che trattò impara l'università dove lei è professore diciamo adesso in aspettativa immagino tra la proprietà è il professor Brioni che è un docente del San Raffaele Brioni diceva guardate che i pronti soccorsi non sono affollati da persone in preda al panico ma insomma c'è una pandemia sono i pronti soccorsi sotto stress e centinaia di persone che muoiono di covid muoiono davvero di covid non di terrorismo mediale ha subito da parte della proprietà una presa di distanze dicendo che Brioni non conosce la realtà dei pronti soccorso non è come dice lui e dice cose non veritiere lei da questa triplice diciamo visuale di ministro medico e diciamo professore del San Raffaele come la vede questa situazione c'è troppo terrorismo mediatico o la situazione è davvero io la vedo da medico che ha fatto da medico che ha fatto i turni nel pronto soccorso perché fino a due anni fa così era è vero che diciamo al pronto soccorso arrivano persone che sono a bassa intensità di cura o che magari non trovando una risposta sul territorio ovviamente devono fare una diagnosi come dicevo prima vi sono persone che sono velociramente positive ma non hanno fatto una diagnosi si staccano dal nucleo familiare e arrivano in ospedale è chiaro che nel pronto soccorso quindi arriva tutto una parte dei pazienti sarà sicuramente a bassissima intensità di cura altri spesso cercano una diagnosi una parte invece si aggrava o è già grave e ha bisogno di cure intensive quindi sono vere tutte e tre le possibilità quello che serve in questo momento secondo me è moderazione serve un uso buono dell'informazione senza creare troppo panico dicendo cose terroristiche perché con questo virus dobbiamo convivere come con tantissime altre malattie senza accusare troppo il servizio sanitario regionale o sanitario nazionale perché sta facendo degli sforzi enormi senza accusare i medici o gli infermieri che invece ancora vengono purtroppo aggrediti come se fossero loro l'errore magari di un sistema territoriale mancante o scarno quindi io sono per una buona informazione spesso per un silenzio quando è necessario il silenzio e come avete visto in questi minuti ho cercato di coinvolgere tutti i miei colleghi anche nei tavoli anche se a volte sono stato criticato perché sai se chiami i crisanti si arrabbia quell'altro se chiami i bassetti quell'altro dice semplicemente cose guardi veramente no no immagino le garantisco che è veramente triste in un momento come questo dove invece le critiche dovrebbero essere messe alle spalle io mi sono arrabbiato qualche giorno le rubo ancora 30 secondi perché Ricciardi che sappiamo che è il consulente del ministro della salute poco fa ha detto l'ipotesi di un lockdown generalizzato non è ancora scongiurata ce lo conferma? attenzione io già l'ho detto ieri non possiamo capire come andrà nelle prossime settimane abbiamo fatto il massimo per dividere l'Italia in aree le misure che abbiamo preso secondo me sortiranno un effetto è evidente però che se noi abbiamo 21 semiregionali e quelli che mancano diciamo come ulteriore controllo nel senso che verranno valutati domani dovessero mostrare che la situazione è molto a rischio è chiaro che altre regioni diventeranno rosse poi se 21 sistemi regionali diventano rossi è chiaro che è un lockdown nazionale prima che esca la notizia si dice lockdown nazionale no se lei mi chiede qual è la probabilità che questo accada a mio avviso oggi è bassa perché la situazione secondo me tenderà a migliorare ed è verosimile che una regione entra rossa un'altra fra qualche settimana esce e torna arancione un'altra torna gialla e avremo queste diciamo situazioni sartoriale a macchia di leopardo e andremo avanti così per diversi mesi e auspicabilmente diciamo davvero spero ma credo che sarà così in un paio di settimane avremo la Lombardia che tornerà migliore avete visto cosa ha detto lì il responsabile del pronto soccorso che già vede un qualcosa che migliora e questa quindi è l'esperienza clinica però ripeto è una percezione di un singolo ospedale dobbiamo valutare i dati completi però se lei mi chiede domenica saremo tutto l'Italia in lockdown francamente io credo proprio di no non no è verosimile che altre regioni saranno più gravi come colore questo sì grazie a Sileri grazie anche al sindaco ovviamente non prendete tutto questo per un liberi tutti dobbiamo anzi a maggior ragione continuare a fare la nostra parte andiamo in pubblicità e poi torniamo allora bentornati diamo il buongiorno al sindaco di Firenze Dario Nardella buongiorno sindaco buongiorno a lei buongiorno Gaia allora sindaco voi siete passati rapidamente da zona gialla a zona arancione è così tra l'altro non aspettando se non ricordo male il tempo che Conte aveva detto il 4 novembre noi non cambieremo colore da un giorno a un altro ma dobbiamo aspettare l'efficacia delle misure su quelle zone invece improvvisamente siete diventati arancioni perché? dunque io credo che ci sia stata un'accelerazione non solo per la Toscana ma anche per altre regioni perché i dati sono arrivati diciamo puntuali anche se comunque rimane una verifica settimanale ho sentito il ministro Speranza ieri mattina il quale mi ha confermato che ogni settimana si avrà questa puntuale verifica del rispetto dei famosi 21 standard e anche del livello di RT cioè di contagiosità stamani ci siamo alzati con una piccola buona notizia perché dopo circa una settimana siamo scesi in Toscana di nuovo sotto i 2000 e a Firenze area metropolitana sotto i 500 contagi giornalieri però non può essere certo preso come l'inizio di una tendenza strutturale dobbiamo avere molta pazienza molta resistenza aspettare ancora qualche giorno qual è la situazione degli ospedali? La situazione è molto seria io credo che non si debba fare allarmismo terrorismo come ha detto anche il viceministro prima di me dall'altro lato dobbiamo avere i piedi per terra e raccontare anche la verità c'è una grande pressione sui nostri ospedali per quel che riguarda l'uso dei posti letto il direttore dell'ASD Toscana Centro ieri ha detto che si stanno apprestando a sospendere gli interventi programmati si lasciano soltanto gli interventi urgenti quelli che riguardano appunto l'oncologia quelli che riguardano ovviamente diciamo incidenti quindi c'è purtroppo un impatto che che colpisce tutte le altre diciamo forme di cura questo è un aspetto di cui non sempre si discute dall'altro lato noi abbiamo avuto dal 5 settembre al 23 scusate nelle ultime 5 settimane abbiamo avuto siamo passati da 23 posti letto a 182 posti letto di terapia covid ordinaria nell'area della città di Firenze dove insistono 4 grandi ospedali abbiamo ad esempio occupati 50 posti letto di terapia intensiva ne rimangono liberi solo 8 solo 8 questo ci fa capire che la situazione è di grandissima pressione sì sì ovviamente c'è una forte ricerca di nuovi posti letto questo è l'impegno principale della regione quello di trovare nuovi posti letto ma ci sono due aspetti importanti da monitorare la ricerca del personale questo è una delle criticità maggiori pensi che nelle RSA di Firenze della mia città cioè le residenze sanitarie assistite sono circa 35 noi abbiamo ad oggi 150 operatori sanitari contagiati e abbiamo quasi 400 ospiti tutti anziani con il covid quindi la situazione è sicuramente molto sotto pressione anche se dobbiamo dire che non è solo il problema non è solo un problema sanitario ma ovviamente anche un problema diciamo di risposta dei cittadini prima si diceva appunto che dobbiamo convivere con il virus la nostra convivenza durerà credo tutto l'inverno senza vaccini e senza cure ieri ho incontrato il professor Rappuoli che è uno degli scienziati italiani che sta svolgendo una ricerca importante sulla cura basata sui sui anticorpi monoclonali che quindi potrebbe produrre un farmaco molto efficace ma mi ha confermato che non prima della primavera se tutto va bene comincerà la distribuzione quindi avremo davanti tutto l'inverno e ci dobbiamo attrezzare anche psicologicamente senta tutto questo va naturalmente di pari passo con la medicina territoriale che è molto importante perché se funziona bene quella vuol dire che tante persone possono essere curate a casa e solamente in meno in pochi o comunque un numero minore si spera accede all'ospedale invece spesso non si trova risposta e tutti si riversano sul pronto soccorso e sull'ospedale credo che la Toscana abbia una medicina territoriale lo dico anche anche per esperienza essendo io mezza con parenti diciamo in Toscana che stia funzionando bene diciamo questa è una cosa perché mi è capitata che sta funzionando i ghostbusters come li chiama una mia parente anziana arrivano a casa per farti un tampone molecolare è così? sì noi abbiamo potenziato molto le cosiddette USCA cioè queste squadre mediche che devono svolgere questa assistenza a domicilio ma abbiamo anche diciamo cominciato a siglare con l'apporto della regione degli accordi con i medici di base perché lei lo sa bene l'ha detto prima la medicina territoriale è fondamentale ed è l'anello debole del sistema italiano cioè la pandemia ha fatto emergere proprio questo punto e la legislazione italiana considera i medici di base come dei veri e propri professionisti autonomi non è come in altri paesi ad esempio la Francia dove c'è diciamo un controllo da parte dello Stato un coordinamento una gestione più diretta quindi bisogna basarsi sulla volontaria cooperazione dei medici di base con le strutture sanitarie i medici di base sono fondamentali perché se noi vogliamo evitare che ci sia la corsa all'ospedale la corsa al pronto soccorso dobbiamo assistere il più possibile il paziente a casa il medico di base è fondamentale ma anche il medico il medico pediatrico noi abbiamo anche il pediatra di famiglia e purtroppo in questo caso ho ricevuto molte lettere da mamme un po' preoccupate perché non riuscivano a contattare rapidamente i pediatri con i figli con i sintomi perché c'è anche un problema di comunicazione cosa fare quando ha i sintomi ha il figlio a scuola dopo che ha fatto il tampone come si deve comportare che tipo di rapporto avere con i compagni della classe insomma c'è tutto un elemento di comunicazione che può essere in prima linea affrontato dai medici di base e dai pediatri di famiglia e quindi dobbiamo assolutamente a livello nazionale trovare una forma di collaborazione strutturata tra sistema sanitario nazionale sistemi sanitari regionali e la rete dei medici di famiglia allora vado velocemente a recuperare una pubblicità poi rientriamo e faccio intervenire De Manzoni e Luciano Capone tra poco Ho sentito il Presidente Conte che ha dichiarato in un'intervista che ci vuole la regola la clausola di supremazia nazionale ma scusatemi una roba ma come si fa a chiedere la clausola di supremazia nazionale quando dal 21 febbraio ad oggi tutto quello che hai proposto ti è stato approvato dalle regioni scusatemi io non faccio mai polemica però a me sembra che le regioni siano state assolutamente a fianco al governo in tutti i provvedimenti ricordo che chiunque alzi il dito e dica che c'è un provvedimento che le regioni non hanno approvato dal governo ma approvati tutti tutti che ci piacessero non ci piacessero per un fatto di leale collaborazione peraltro voglio spiegare ai cittadini che la clausola di supremazia statale nazionale scusatemi è una clausola che non è astrusa perché qualcuno verrà a dirvi eh mazzaia parla contro la clausola di supremazia nazionale ma si dimentica che la Germania ce l'ha è ovvio che ce l'ha la Germania c'è il federalismo cioè tu la introduci nel momento in cui sai di aver dato un sacco di autonomia ai tuoi territori e allora c'è un momento nel quale nella storia dei territori c'è necessità di dire ragazzi tornate indietro un attimo fermi tutti perché adesso doveva decidere uno ma in Italia non c'è federalismo in Italia c'è centralismo per cui la clausola di supremazia nazionale ci sta solo in un contesto in un paese federalista punto a me spiace perché noi come regioni veramente come si dice dalle nostre parti abbiamo portato l'acqua con le orecchie al governo perché abbiamo votato tutto non abbiamo fatto casino per carità ogni tanto magari potremmo dire sta roba l'avrei fatta diversamente ma mai ci siamo permessi di intralciare la corsa del treno anche perché il treno è quello della salute e della sicurezza dei cittadini allora De Manzoni c'è il federalismo in Germania e qui invece noi siamo stati collaborativi dice Zaia però non potevamo fare di più però anche lì in Lombardia insomma non l'abbiamo vista sempre lineare Salvini che diceva non chiudere poi chiudere non chiudere lo stesso l'abbiamo visto però anche in Campania per dire no? Sì però attenzione perché dobbiamo distinguere i due piani uno è quello mediatico e sul piano mediatico ne abbiamo viste di ogni oggettivamente e l'altro è il piano sostanziale su quello penso che abbia ragione Zaia cioè non c'è stata mai una vera opposizione al limite c'è stato uno scaricabarile ma per scaricarsi il barile bisogna essere in due e quindi un attore era magari la regione l'altro era sicuramente il governo l'abbiamo visto nel caso di Alzano dove addirittura c'è adesso un'inchiesta penale in corso e vedremo come andrà a finire ma lì oggettivamente a doppia mandata perché la Lombardia e il Veneto si comportavano in maniera diversa in maniera diversa perché assolutamente le cose camminano sulle gambe degli uomini per cui oggettivamente ci sono state delle posizioni diverse è vero anche che ripeto la Lombardia ha avuto un impatto molto maggiore anche perché e torniamo sempre allo stesso punto io vivo in Veneto qui la medicina territoriale è vivo in Veneto e lavoro in Lombardia per cui conosco abbastanza bene tutte e due le realtà e devo dire che c'è una grossa differenza tra la medicina veneta e quella lombarda qui c'è molta più territorialità si ospedalizza meno il che quando ovviamente c'è un problema pandemico virale è un vantaggio clamoroso per altre per altre patologie magari è molto meglio la Lombardia dipende dipende dalla situazione è ovvio in certe situazioni l'ospedalizzazione rapida immediata l'accesso facile all'ospedale magari ti salva la vita e in altre situazioni crea un focolaio e diventa un problema non c'è niente di scientifico e di definito indubbiamente in questa situazione avere una rete territoriale è molto è molto meglio che non averla efficiente dico detto questo c'è un equivoco sul discorso secondo me dello scaricabarile appunto tocca la ragione tocca il comune perché quando si chiude si provocano degli effetti collaterali chiamiamoli così l'effetto collaterale più importante è quello economico io regione posso anche decidere che inasprisco le misure del governo e chiudo i ristoranti dopodiché non ho il budget per dare ai ristoranti che sono stati chiusi il modo di sopravvivere al personale e alla gente perché non ho i soldi da dargli i soldi devono arrivare dallo Stato quindi è chiaro che quando si dice ma le regioni e i comuni stessi possono chiudere fare sì possono a livello teorico sul piano pratico è chiaro che non lo possono fare Nardella è così? Guardi io sono d'accordo con Manzoni che quando osserva che ci sono grandi differenze tra regione e regione faceva l'esempio del Veneto e della Lombardia allora io rispetto molto Zai anzi lo stimo sempre per il suo diciamo tono pacato equilibrato però a livello sanitario è come se non c'è una sorta di federalismo certo in Italia lo chiamiamo regionalismo ma i sistemi sanitari sono basati fondamentalmente sui modelli regionali tant'è vero che il problema che è emerso in questi mesi è che ci sono sistemi troppo diversi da regioni e regioni la validazione dei tamponi non è solo quella ai CTS ci sono regioni che usano test diversi tra di loro i tempi e i modi di risposta ai test i modelli diversi di organizzazione della sanità del territorio i modelli diversi di organizzazione dei sistemi ospedalieri e delle ASL nelle vari settori delle regioni insomma c'è davvero tanta differenza allora è chiaro che in una situazione di emergenza dove bisogna essere veloci omogenei ed efficaci questa differenza in 20 diversi modelli senza poi considerare le regioni ad autonomia speciale è un elemento di grande problematicità che o si supera con una cabina di regia forte unita compatta oppure porta inevitabilmente a grandi tensioni e l'abbiamo visto poi un'altra cosa diceva Manzoni è l'aspetto economico qui c'è un altro problema diciamo la verità c'è un po' la paura di tenere il cerino in mano cioè perché rispetto alla prima ondata ora c'è più preoccupazione di chiudere perché c'è più consapevolezza dell'impatto economico delle chiusure e quindi nessuno se la sente di prendersi la responsabilità per tutti di fermare nuovamente l'economia allora questo gioco del cerino bisogna bloccarlo se c'è una forte condivisione di responsabilità perché Firenze città d'arte il turismo non c'è i musei sono chiusi i ristoranti chiudono diciamo che abbiamo visto anche delle proteste molto accese nei giorni scorsi poi lì si infiltra di tutto siamo in una situazione terribile siamo in una situazione veramente pesantissima pesantissima perché non viene colpito solo il turismo ma tutta l'economia intorno al turismo dalle guide turistiche ai musei agli artigiani perché tutto il mondo è artigianato gira intorno al turismo al turismo di qualità pensi noi abbiamo 45 università americane a Firenze sono tutte chiuse le istituzioni straniere e poi l'export il mondo della moda Firenze ha il distretto di moda più grande d'Europa e purtroppo risente molto della crisi anche se il mercato asiatico sta riprendendo noi siamo preoccupatissimi e la come dire la vera sfida sulla ripresa economica non è di quest'anno è dell'anno prossimo perché finiranno gli ammortizzatori sociali le casse integrazioni finirà come dire l'emergenza sanitaria con i nuovi vaccini e con le cure ma si aprirà questo terreno gigantesco della crisi economica del recupero dei posti di lavoro ed è lì che ci dobbiamo far trovare pronti quindi credo che già da ora dobbiamo lavorare i ristori vanno bene ma sono comunque delle misure diciamo che agiscono nell'immediato dobbiamo pensare ad un vera e propria manovra strutturale che l'anno prossimo consenta all'economia italiana di riprendersi due cose una come chiede al sindaco parlava appunto dell'impatto sul turismo cioè immagino anche sulle casse comunali visto che c'è poi la tassa di soggiorno ci sarà anche sul bilancio comunale un impatto e come lo sta affrontando il comune di Firenze e gli altri comuni ma quello di Firenze immagino abbia come dire un'incidenza maggiore rispetto essendo una città turistica rispetto ad altri e poi lui prima faceva riferimento al fatto che diciamo servono strutture diciamo come la medicina territoriale altre che come dire devono essere realtà del passato dovremmo trovarci dal passato e se non ci sono oppure il personale che manca uno non può inventarlo però diciamo da qui bisogna progettare e programmare per il futuro e ad esempio un tema importantissimo parlava lui delle cure possibili anticorpi monoclonali o il possibile vaccino ci sarà bisogno di un piano per la distribuzione del vaccino che dovrebbe essere monoclonali potrebbero arrivare prima come ci ha spiegato anche il professor Palù hanno curato Trump hanno rimesso in piedi Trump per tre giorni comunque c'è soprattutto per il vaccino necessità di un piano di distribuzione territoriale capillare se da quello che sa lui molti paesi sono in fase molto più avanzata sull'elaborazione di questi piani se il governo ha contattato gli enti locali comuni territori per individuare i centri vaccinali il personale che dovrebbe farlo le modalità il trasporto e insomma è tutto quello che è necessario chiedo a lui non è la persona più indicata ma immagino la tassa di soggiorno no no tassa di soggiorno anzitutto come dire è uno dei punti cruciali perché rappresenta una fonte di di finanziamento di molte città italiane senza dover incidere sulla fiscalità locale quindi senza alzare le tasse ai cittadini quindi è molto importante Firenze nel 2020 aveva preventivato un incasso di 43 milioni di euro bene noi abbiamo preso praticamente solo la tassa di soggiorno di gennaio e febbraio scorsi quindi veramente pochi milioni 2-3 milioni per fortuna sono intervenuti i decreti di quest'estate il decreto rilancio e il decreto agosto che hanno ripianato gran parte delle mancati introiti ma il problema si ripresenterà per l'anno prossimo questo lo dobbiamo dire non è che non appena arriva il vaccino e poi vengo a quel tema riparte subito il turismo lo sappiamo bene la ripartenza del turismo sarà estremamente graduale e poi siamo sicuri che ricomincerà il turismo a cui abbiamo sempre assistito cambierà anche diciamo il mondo del turismo cambierà secondo me per sempre diciamo un certo modo di viaggiare di muoversi quindi dobbiamo affrontare anche questo tema io credo che il governo dovrà prendere presto in esame la legge di stabilità non basta non basta dovrà prendere in esame il grande tema dell'impatto economico della riduzione del turismo credo che almeno da quello che mi dicono gli operatori della mia città i primi flussi consistenti turismo avverranno dall'estate in poi ma noi non recupereremo assolutamente nel 2021 se siamo bravi recupereremo nel 2022 quindi il 2021 sarà un anno difficilissimo anche per le casse dei comuni noi abbiamo già ci stiamo già apprestando a fare il bilancio preventivo 2021 e come imposta di soggiorno siamo ci manteniamo prudenti ma siamo a un quarto un quinto delle previsioni rispetto al consuntivo 2019 sui vaccini per la verità io ho avuto modo di parlare al presidente Conte ne ho parlato circa dieci giorni fa di persona certamente ci sarà il grande temo di come distribuire le dosi perché non arriveranno dosi massicce intanto credo che il governo ha fatto bene a investire come per esempio ha fatto in modo massiccio hanno fatto gli Stati Uniti d'America il governo italiano fa bene a investire sulle filiere di produzione e abbiamo scoperto che l'industria farmaceutica è strategica tanto quanto l'industria della difesa l'industria tecnologica è ormai un elemento strategico i paesi dove si produrranno i vaccini saranno anche avvantaggiati perché è lì che comincerà la distribuzione e quindi il tema della distribuzione sarà il tema che ci vedrà molto impegnati anche a discutere tra di noi Gaia a cominciare già dai primi mesi dell'anno prossimo e si dovrà necessariamente individuare delle fasce credo che su questo dobbiamo davvero evitare le solite polemiche mettiamoci d'accordo individuiamo governo Parlamento quali sono anzitutto le fasce a cui indirizzare la prima distribuzione dei vaccini e poi con quale metodo credo che i comuni possano essere molto disponibili ricordatevi a fine marzo il governo preso dalla disperazione chiese ai sindaci di distribuire mezzo miliardo di buoni di buoni spesa per per l'emergenza alimentare ve lo ricordate bene i sindaci italiani hanno distribuito mezzo miliardo di buoni spesa in dieci giorni senza una crisi senza una polemica senza un inghippo quindi i sindaci possono essere preziosi per operazioni di queste complessità come valuta l'operato del commissario Arcuri che per l'appunto adesso avrà in mano anche la partita dei vaccini secondo me si sta impegnando molto io ho avuto più volte occasioni di lavorare con lui il ragazzo si impegna ma potrebbe fare di più come si diceva a scuola no no non ho la pretesa di dare il voto al professore però io devo dirle facciamo così parlo della mia esperienza ogni qual volta mi sono rivolto ad Arcuri per problemi della mia città gli è arrivato un banco a rotelle scherzo ma per fortuna noi ecco sui banchi a rotelle non ho avuto bisogno di Arcuri De Manzoni però voglio dire anche lui non è che possiamo dare tutta la colpa ad Arcuri però se gli diamo tutto in mano diventa un Batman un supereroe insomma tanti auguri prego De Manzoni è vero anche questo il problema è esattamente questo esattamente questo non possiamo dare tutto in mano ad Arcuri a prescindere può anche essere il più bravo di tutti e non mi sembra ma può anche esserlo ma non puoi dargli in mano tutto quanto non può occuparsi della scuola ai vaccini all'ILVA al materiale sanitario non è possibile e questo è francamente una cosa incomprensibile in un governo che era partito disseminando task force ovunque quindi dispiegando un grande numero di uomini in giro dopodiché ci siamo ridotti a uno anche perché non riesco a capirlo superpoteri super speranze superattese poi oggettivamente insomma o sei Superman oppure diventa difficile senta Sindaco un'ultima cosa abbiamo visto nelle settimane scorse complici anche il bel tempo un sacco di luoghi all'aperto affollati non solo a Napoli ma anche nelle spiagge cosa succede nel fine settimana a Firenze dove magari nelle piazze andranno a passeggiare tante persone visto che insomma si può fare guarda mi verrebbe da fare la danza della pioggia ma purtroppo non credo funzioni no anche perché ci hanno insegnato che il caldo aiuta quindi non sappiamo neanche lì più cosa esatto è vero quindi dobbiamo abbiamo già deciso ieri con il prefetto di intensificare i controlli io ho detto in modo molto chiaro che se vedremo le scene che abbiamo visto negli scorsi fine settimana a Firenze con le persone che complice il bel tempo si sono riversate nelle piazze del centro senza particolari motivi perché ricordiamo nelle zone arancioni ma anche nelle gialle occorrono dei motivi diciamo di necessità per uscire ecco se avviene quello che abbiamo già visto sicuramente noi dovremo chiudere alcune piazze nei prossimi fine settimana se vediamo che il contagio non si ferma e qui chiedere alle persone di fare la loro parte non significa dare la colpa ai cittadini per un sindaco è impossibile dare la colpa ai propri cittadini significa chiedere un aiuto chiedere collaborazione io non posso mandare i vigili nelle case delle persone e non posso avere 10.000 vigili che controllano ogni metro quadro cioè se non c'è la collaborazione anche i controlli più stringenti non bastano però senta se io sto passeggiando in piazzale Michelangelo mi fermano e dico che vado al ristorante perché ho una prenotazione se è lei che passeggia non la fermiamo sì no fermate come no no allora no però capisce è uno scherzo ovviamente no allora nelle zone arancioni come sa i ristoranti e bar sono chiusi però se una persona si trova a passeggio diciamo da sola in un luogo isolato è un discorso ma se va nelle piazze dove c'è affollamento dove c'è assembramento senza motivo anche perché i bar e i ristoranti sono chiusi dice no ma io vado in negozio bene allora vai al negozio compri quello che ti serve e torni a casa non stai con 7-8 amici come mi è capitato di vedere sabato scorso nel pomeriggio ciondoloni come si dice in Toscana a camminare senza motivo e magari con la mascherina abbassata e questo è il punto moltiplichiamo per mille per centomila per un milione questi comportamenti poi non ci meravigliamo se il contagio non si abbassa ma è pronto a chiudere le piazze oppure anche lei come De Magistris dice ma io se chiudo da una parte tanto vanno da un'altra è vero che la chiusura delle piazze non è la migliore delle misure però di fronte a comportamenti che dovessero continuare io valuterò e chiederò al prefetto di chiudere alcune piazze come è stato fatto già in altre città è vero che non è la soluzione di tutti i mali però se ragioniamo così rischiamo di non trovare mai una soluzione dobbiamo in ogni caso ridurre i contatti ridurre le occasioni di assembramento anche una passeggiata e mi dispiace dirlo mi fa soffrire dire alle persone di non godere della bellezza della mia città di Firenze per me è un dolore fortissimo però anche una passeggiata senza motivo di varie ore con gli amici può essere un problema grazie sindaco Nardella grazie a De Manzoni grazie a Luciano Capone adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break e noi ci rivediamo domani arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti